Questo mese per touring siamo andati a Matera per un reportage fotografico firmato da Francesco Lastrucci, che è un fotografo italiano che collabora con il New York Times, Legend Geographic, con Vanity Fair. Lastrucci è andato a Matera e ci ha raccontato soprattutto i sassi di Matera e con lui possiamo seguire anche la storia di Mimmi Nicoletti, un materano che ormai ha 78 anni, che viveva nei sassi quando erano ancora alla vergogna nazionale, quindi negli anni 40, quando De Gasperi decise che la popolazione nei sassi andavano trasferite bisognava dargli una casa migliore. Lastrucci con questo Mimmi Nicoletti è andato e l'ha riportato nella sua casa nei sassi 50 anni dopo, perché la storia di Nicoletti è emblematica, lui non è mai più ritornato nella sua vecchia casa, nel suo vecchio quartiere e solo col nostro fotografo ha accettato di andare e di vedere dove ha abitato, quindi c'è anche una storia personale all'interno di questo servizio.